Buongiorno e ben ritrovati! Vi propongo oggi la versione fredda di un classico della cucina italiana, la pasta alla norma. Melanzane fritte, pomodorini, ricotta salata e basilico. Questi sono gli ingredienti per questa pasta da gustare fredda. Per due persone prendo una melanzana di circa 350 grammi. La spunto, la taglio a fette e poi a cubetti piccoli. Raccolgo tutte le melanzane e queste le farò friggere anche se non proprio immerse nell'olio. Dovranno diventare soltanto dorate. Verso in una padella a bordie alti, circa un dito d'olio per friggere. Così, non di più. Controlliamo che l'olio sia caldo. Bene. Possiamo aggiungere tutte le melanzane. Le nostre melanzane sono dorate. Posso toglierle e metterle su carta assorbente. Un pizzico di sale sulle melanzane e le lascio raffreddare. Nel frattempo taglio a spicchi 200 grammi di pomodorini che ho già lavato. metto i pomodorini all'interno dell'inzalatiera. Li condisco con un pizzico di sale. Un filo d'olio. e qualche foglia di basilico che spezzetto con le mani. Aggiungo adesso le melanzane. Ho messo sul fuoco l'acqua per la pasta. Ora che bolle, aggiungo il sale e 200 grammi di pasta corta. La farò cuocere il tempo indicato e poi la scollerò al dente. Ho scolato la pasta e l'ho fatta raffreddare sotto un leggero getto e un po' d'acqua fredda. La condisco. Questa la lascio riposare in frigorifero fino al momento di servirla. e il grasso riposare in frigorifero getto. Aggiungo qualche altra fogliolina di basilico fresco e termino con una bella grattata di ricotta salata. La nostra pasta fredda alla norma è pronta. Per oggi è tutto, io vi saluto e noi ci vediamo presto! Grazie per la visione! Grazie.